Ciao a tutti, sono Cecilia del Comitato di Forlice-Sena. Allora, questa è una riflessione che è iniziata da un confronto acceso con alcune femministe separatiste. Io non sono una femminista separatista, sono una femminista non separatista. E in realtà è nato il fatto che mi hanno criticata per la troppa importanza che io davo al ruolo maschile nel lotta per i diritti delle donne. E pur non condividendo i modi e i metodi che vorrebbero applicare loro, che applicano dagli anni settanta, mi sono reso conto che forse non si sbagliavano tanto. Perché? Innanzitutto mi sono interrogata sul ruolo, cerca il ruolo degli uomini che hanno tutta questa storia. E di fatto si sta trasformando, io non voglio criticare gli uomini che partecipano, però di fatto nel coinvolgerli stiamo trasformando la battaglia femminista in una battaglia maschilista, in cui gli uomini hanno fra un poco più autorevolezza di noi nel parlare dei nostri problemi o dei nostri temi. E' successo ad esempio, c'è stato un post su Facebook in cui un professore era stato incontattato da Skype per parlare del ruolo delle donne nella scienza, e lui ha detto, scusate ma chiamate una scienziata? Eh ma se lo dice un uomo è più autorevole. E lui l'ha pubblicato su Facebook. Cioè ci stiamo molto aggrappando a questa presenza maschile nelle nostre battaglie, dimenticandoci invece che il nucleo fondamentale, che poi era quello degli anni settanta, era una battaglia di sole donne, per le donne e fra le donne. Stiamo creando questi incontri stupendi come questo, perché è un incontro stupendo, ma ci incontriamo poco fra di noi donne. I gruppi di autocoscienza erano qualcosa secondo me di veramente esplosivo, in cui le donne si incontravano, non parlavano solo di problemi politici legati all'essere donne, ma loro stesse in quanto donne, e che avevano un luogo di vera condivisione intima e umana del loro vissuto. Allora io penso che possibili i partiti dovrebbero un po' riprendere e rilanciare queste pratiche, che non sono la riserva indiana, perché quando la nazionale di pallavolo, esiste la nazionale maschile e la nazionale femminile, non giocano insieme, non è che la nazionale femminile va in campo e spacca il mondo, no, si allenano. Allora, le riserve, gli incontri fra donne non sono riserve indiane, sono allenamenti. Quindi penso che sia importante creare di nuovo questi centri in cui le donne si vedono solo fra di loro e imparano a essere solidali fra di loro, perché anche fra le femministe, io magari sono la prima, di tanto in tanto mi rendo conto di avere ancora tantissimi, tantissimi meccanismi di giudizio nei confronti delle altre donne, in termini di estetica, in termini di comportamenti, nel modo di parlare, di presentarsi, di muoversi, e che è un percorso lunghissimo, in fondo il femmismo è un percorso. E agli uomini suggerisco, e questo lo suggerisco pensando a mio padre, mio padre era un disertore del patriarcato, lui è cresciuto, era un uomo siciliano, cresciuto nella Sicilia degli anni 50, e io l'ho visto soffrire per gli schemi imposti all'uomo siciliano di allora, perché da lui ho imparato, per esempio, la fragilità, perché era un uomo molto fragile, ma non fragile di debole, però molto sensibile. E quindi penso che gli uomini siano vittime del patriarcato, non in maniera uguale, perché non è umanamente pensabile, ma sono vittime anche loro. Da madre di un bambino, quando mio figlio cade a terra, mi sento di non lo prendere in braccio, digli che non è niente, no, lui ha voglia di piangere, cioè piangerà. Se cade una bambina, no, invece lei deve essere subito, allora c'è questa cosa che la bambina può piangere, il bambino no. Io penso che questi luoghi di confronto debbano essere ideati anche per gli uomini, perché se è vero che dovete fare un percorso in cui riflettete sul maschilismo, non solo su come siete maschilisti, ma su come il maschilismo vi abbia molto tarpato le ali, moltissimo, in termini di aspettative sociali, allora bisognerebbe avere il coraggio di creare questi due contenitori che veramente viaggiano in parallelo, in cui gli uomini si sentano liberi di parlare del loro essere uomini, e sono uomini che già l'hanno fatto, o ai Lorenzo Gasparrini, che cura un bellissimo blog, o ai Massimo Lizzi, o l'associazione maschile plurale in generale, perché molto lavoro parte da riappropriarsi del termine maschile e femminile, e soprattutto a liberare proprio da parole maschile, per decostruirle in un certo senso, perché non sono ad esempio una di quelle che pensa a dobbiamo femminilizzare, no, la gentilezza, la sensibilità, l'empatia, il rispetto, la calma, non sono delle donne, semplicemente ci hanno educato a essere così, possiamo educare anche gli uomini a essere così, così come noi possiamo autoeducarci, essere molto più volitive, testarde, determinate, e rompi palle se è necessario. Io non penso che si debba femminilizzare un bel nulla, semplicemente bisogna dire che esistono dei comportamenti giusti, dei sentimenti corretti, e che quei sentimenti siano per tutti, e che quindi tutti vengono educati a provare quel genere di sentimenti. Grazie. Un'ultima cosa, perché mentre c'era quella che aveva parlato la regista, quella che lavora il mondo dello spettacolo, non so chi ha visto Handmaid's Tale, i racconti dell'ancella, o, beh, a Verona hanno fatto. Mi spero di non anticipare niente, alla fine è la seconda stagione, spoiler, spoiler, succede una cosa molto importante, che è rispetto a quei luoghi di discorso, l'ancella, che è una schiava sessuale e riproduttrice, si allea con la moglie, che è semplicemente una schiava sociale, non dico in che cosa, ma si alleano in quanto donne, ed è nel loro reciproco riconoscimento e della loro sensibilità in quel momento che prenderanno potere, non vi dico come, e in quel preciso momento che diventeranno entrambe madri, veramente, della stessa bambina. Ecco. E quello, secondo me, rende l'idea del luogo in cui le donne stanno solo fra di loro, è inteso come luogo di potere, non di riserva indiana. Scusatemi. Applausi.